Salvare le strade di montagna dal degrado e dall'usura degli agenti atmosferici recuperando nell'importante funzione turistico-sportiva che rappresenta un unicum nazionale per la provincia di Cuneo. Questo l'obiettivo del protocollo di intesa promosso dalla Camera di Commercio di Cuneo con il supporto della Regione Piemonte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al quale hanno aderito numerosi comuni di montagna, unioni montane e associazioni di categoria. La presentazione firma del documento è avvenuta nella sala consigliare dell'ente camerale. Al centro dell'attenzione i tanti percorsi intervallivi ricchi di storie e teatro di manifestazioni ciclistiche di respiro internazionale. Basti pensare al Giro d'Italia, alle strade del Colle Fauniera e alla Fausto Coppi, una tra le gran fondo più longeve d'Europa, sui quali è necessario intervenire tramite opportune azioni di finanziamento con progetti di messa in sicurezza e di valorizzazione che ne sottolineino l'importante apporto economico e turistico per l'intero sistema provinciale. Oggi hanno dichiarato che le nostre montagne sono il petrolio del nostro futuro e credo che sulle strade di montagna dobbiamo veramente costruire qualcosa di nuovo, di importante, ripristinare quello che l'antica nostra storia ci aveva in qualche modo offerto e regalato. Oggi quegli strumenti in tempo di guerra devono diventare invece uno strumento non solo di pace ma di crescita, di sviluppo per dare nuovo senso e nuovo valore alle nostre montagne ma permettere anche, io credo anche a tanti, di poter ritornare alla montagna perché se una montagna è viva e piena di opportunità diventa anche interessante dal punto di vista sociale. La nostra grande opportunità sarà il setennato 21-27 dei fondi europei. È una partita straordinaria perché ci giochiamo 900 milioni di euro e dove ci sarebbero le risorse assolutamente per porre rimedio alle criticità che oggi sono state evidenziate e io sono sicuro che col lavoro di tutti, confrontandoci sempre col territorio, quindi recependo le loro istanze e con un dialogo che dobbiamo impostare più forte con la Francia e soprattutto con Nizza, io penso che riusciremo a portare a casa quello che il territorio necessità. Credo che la riunione di oggi sia stata fondamentale perché la preservazione del nostro territorio e delle nostre strade è l'unico metodo per poter continuare a crescere in questo sistema turistico nazionale. Abbiamo realmente la possibilità di valorizzare ulteriormente le nostre montagne, abbiamo una progettualità che non ci manca e dobbiamo fare il possibile perché le risorse consentano di realizzare non solo le iniziative che abbiamo in programma ma di continuare a progettarne di nuove. Cosa chiediamo? Noi oggi abbiamo chiesto una maggiore attenzione nei confronti del territorio, delle strade certamente per la Fausto Coppi ma non esclusivamente per la Fausto Coppi ma per un'ottica prospettica per una crescita sostanziale del mondo del cicloturismo che è ineluttabile ineluttabile grazie all'avvento sicuramente delle e-bike ma grazie anche sempre di più all'attenzione che ha il mondo turistico e cicloturistico e il mondo che ha a cuore l'ecosostenibilità nei confronti del nostro territorio.